Il mondo della DeFi è ormai sparso su una moltitudine di chain e questo numero continua a crescere tra l'altro mese dopo mese. Per saltare da una chain all'altra si utilizzano i cosiddetti bridge senza i quali non è proprio possibile poter utilizzare tutti gli strumenti che la DeFi ci offre. Spesso le migliori opportunità sono tra l'altro sulle chain nuove, su quelle in crescita e per accedere serve saper utilizzare a mena dito alla perfezione appunto questi bridge anche perché se si fanno errori sono cavoli se si sbaglia a trasferire una coin da una chain all'altra si rischia veramente di fare dei danni anche irreparabile. Quindi nella puntata di oggi che è ormai la terza puntata del nostro corso gratuito di DeFi per principianti facciamo il nostro super spiegone proprio sui bridge. Andiamo a vedere tutti i migliori bridge che esistono in base alle chain tra le quali ci vogliamo muovere e andiamo a vedere anche visto che ognuna di queste chain ha la sua infrastruttura quali wallet utilizzare e come configurarli in maniera comoda in modo da avere un unico seed e wallet di partenza che sarà il nostro ledger e da esso collegarci con tutte le chain a disposizione. Sarà lungo e intenso quindi vi avviso siate belli freschi bevetevi un caffè se è necessario ma vedrete che ne varrà la pena. Come al solito vi chiedo il vostro feedback questo corso lo sto facendo anche grazie a quello che voi mi dite puntata per puntata quindi per piacere se mi scrivete nei commenti cosa vorreste sentire trattato nelle prossime puntate o approfondito fatelo che per me è di grande aiuto per sapere che direzione prendere. Ora tenetevi forte perché andiamo a fare una bella maratona di bridges. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo subito questa puntata che parlerà di bridge e di cross chain tutto quello che c'è da sapere per operare in questa moltitudine di depth chain e tutto ciò che le circonda. Iniziamo con una panoramica di quello che vedremo oggi quindi una piccola scaletta degli argomenti che poi approfondiremo durante questa lezione. Bridge che cos'è a cosa serve e quali usare? Ce ne sono una valanga e quindi dobbiamo capire innanzitutto perché dobbiamo usare un bridge quindi che cos'è il bridge come si posiziona nel complicato ecosistema DeFi e alla fine andiamo a scegliere in base all'operazione che dobbiamo fare non lo so devo mandare usdc da solana a terra che bridge devo utilizzare? È una domanda a volte per nulla banale proprio a causa della moltitudine di bridge e spesso purtroppo essendo ancora un mercato e soprattutto un settore poco maturo sotto certi punti di vista non sono sicuramente user friendly ecco quindi c'è da fare un piccolo sforzo di comprensione. Lo stesso vale per i wallet ci sono una marea di wallet diversi e quindi uno si chiede ok ma per ognuna di queste chain quale wallet mi conviene usare? Non è che ce n'è magari uno che utilizzo con la maggioranza di esse? Insomma l'obiettivo dovrebbe essere quello di minimizzare lo sforzo e massimizzare l'usabilità ecco come muoversi tra una chain e l'altra? Una volta che abbiamo capito i temi del wallet e del bridge quindi quali utilizzare quali scegliere sarà lo step naturale successivo quello di capire come fare questi famigerati salti di chain. Lo faremo con anche l'aiuto di alcuni tutorial pratici quindi andremo oggi a esaminare alcuni bridge uno a uno con tanto di caratteristiche pro e contro dell'uno e dell'altro e nel frattempo vorrei fare un parallelo tra teoria e pratica per spiegarveli appunto teoricamente e nel frattempo andare a vedere proprio bridge alla mano come si utilizza in maniera concreta che so che vi piace me l'avete chiesto in tanti e sapete che io ascolto i vostri feedback. Infine facciamo una piccola parentesi piccola perché in realtà è molto breve sul come recuperare e quando si può fare perché purtroppo non sembra possibile delle coin dei token mandati ahimè sulla chain errata. Quante volte è capitato di prelevare da Binance su una chain e poi però accorgersi oh no cavolo io questo wallet ce l'ho sull'altra chain e allora lì bisogna capire come fare a recuperare questi token per non perderli. Andiamo dritti al sodo e iniziamo con una slide che avevamo introdotto se vi ricordate se siete molto sul pezzo nell'episodio precedente io ne approfitto per ricordarvi di per raccomandarvi o meglio di guardare questi episodi in ordine questo è il terzo e se è il primo che guardate potreste non capire molti concetti perché li ho spiegati appunto nelle puntate precedenti quindi vi suggerisco di guardarle in ordine le trovate tutte gratuitamente qua su youtube. Questa slide l'abbiamo messa in conclusione della puntata precedente dove introducevamo vagamente il mondo cross chain e abbiamo diviso il mondo cross chain in due macro aree che sono il mondo evm e il mondo non evm. Evm sta per ethereum virtual machine che è una macchina virtuale un computer immaginatevi che esegue il codice scritto su ethereum e permette quindi l'esecuzione degli smart contract senza l'evm gli smart contract sarebbero solo parole che non fanno nulla ok il mondo evm è caratterizzato ad avere tutto un insieme di applicazioni e interfacce tutte sue come ad esempio metamask in quanti di voi utilizzano metamask per ethereum ma anche ad esempio per polygon oppure per phantom oppure per avalanche per un semplice motivo sono tutti si chiamano evm compatibili l'essere evm compatibile significa l'essere completamente integrabile e appunto compatibile con il mondo ethereum e questo porta oltre al poter utilizzare ripeto come interfacce ed infrastrutture i già noti come metamask comporta alcuni standard come gli address che iniziano tutti con 0x soliditi come linguaggio di programmazione quindi gli smart contract sono molto simili tra loro ed è relativamente semplice importare una dap da ethereum a un'altra blockchain evm compatibile basta cambiare giusto qualche piccolo dettaglio all'interno dello smart contract ma non va riscritto completamente l'interfaccia è familiare perché ad esempio chi ha usato in passato uniswap quando è uscito pancakeswap ha detto ah caspita è uguale perché di fatto sono dei fork molto spesso quindi sono delle copie di dap esistenti su ethereum o sulle altre chain evm compatibili con magari alcune modifiche grafiche di branding qualcosa che le caratterizza ma di fatto il funzionamento alla base è sempre quello una particolarità del mondo evm emersa nell'ultimo periodo a causa del dei problemini di scalabilità di ethereum è l'esistenza anche di dei cosiddetti layer 2 i layer 2 diciamo che per motivi di semplicità nell'operare quindi nell'utilizzarli li possiamo considerare come se fossero delle chain a sé stanti però di fatto la differenza che sono appunto dei layer 2 quindi sono degli strati uno strato in più costruito che si aggancia in qualche modo alla block chain ethereum e ne eredita in particolare o meglio dovrebbe farlo sicurezza decentralizzazione e almeno in parte il consenso questo è un po una panoramica del mondo evm dall'altra parte c'è il lato scuro e il mondo non evm che invece non ha nulla a che fare con tutto ciò prendiamo come esempio solana oppure terra oppure cosmos abbiamo un ecosistema completamente diverso completamente magari no perché qualcosa in comune possono anche avere ma comunque parliamo di infrastrutture diverse quindi wallet differenti interfacce con le dap magari differenti address differenti quali di terra iniziano con terra quelli di solana non hanno uno standard particolare con di carattere iniziale insomma non non sono i soliti 0x quindi magari uno si trova un attimino più spaesato non puoi utilizzare metamask chiaramente hai per ognuno la sua interfaccia anche i linguaggi di programmazione possono variare ad esempio solana utilizza rust non viene più utilizzato solidity quindi prendere uniswap e portarlo su solana non è possibile va completamente riscritto in rust e di fatto si tradurrà in una nuova dap anche le interfacce possono essere diverse possono esserci dei comandi in più da fare delle cose leggermente diverse dalle operazioni tipiche che si fa su ethereum o sul mondo evm questa è pura teoria perché era giusto per introdurvi la differenza principale il primo spartiacque ecco nel mondo cross chain che è quello tra evm e non evm la maggioranza del cross chain tende a diventare evm compatibile o a nascere direttamente così per quale motivo perché il mondo defy è nato su ethereum il grosso della liquidità e li le principali dap curve ave uniswap eccetera sono lì e quindi capite bene che il poter portare qualcosa di di ciò che c'è già e di così grandi dimensioni sulla propria chain con minimo sforzo è un vantaggio non indifferente continuiamo ora con qualche dettaglio in più quindi abbiamo capito il cross chain adesso andiamo a capire i bridge come funzionano queste chain cioè sono parallele sono parlano tra loro cioè di fatto l'esistenza di così tante chain porta una necessità la necessità di doversi muovere tra una e l'altra perché di fatto io non voglio limitarmi al solo ethereum al solo avalanche ma mi piacerebbe muovere la liquidità da una all'altra e qua nasce l'esigenza dei bridge perché non è possibile in nessun modo saltare da una chain all'altra senza un bridge perché ogni chain è come dire una corsia a sé con un muro che le divide dalle altre chain per saltare questo muro ci vuole per l'appunto un bridge qui ho fatto un esempio mettendo in parallelo ethereum avalanche che è vm compatibile e terra che non è vm come vedete ho messo 0x a 0xb 0xc volutamente è il medesimo address perché con il nostro metamask se noi dal menu a tendina switchiamo da ethereum ad avalanche non cambia l'address non so se avete notato gli address sono sempre gli stessi quindi se noi generiamo un wallet a partire da un seed una chiave privata noi abbiamo il nostro address 0x a se noi andiamo a collegare quello stesso metamask che parte dallo stesso seed dalla stessa chiave privata ad avalanche non è che ci cambia l'address abbiamo sempre 0x a e questo è importante per capire come una coppia di chiavi pubbliche private quindi un seed è spendibile allo stesso modo è utilizzabile allo stesso modo su tutto il ventaglio delle chain evm compatibili differente è la situazione se parliamo del mondo non evm quindi se parliamo di terra non è che possiamo usare il nostro metamask e collegarlo a terra no perché non ha nulla a che vedere quindi ci vuole un suo wallet ci vuole tutto il suo ecosistema per fare un movimento da ethereum a ethereum io prendo e mando quindi faccio una transazione la classica transazione di invio da 0x a a 0x b ok l'ho fatta molto bene da 0x a 0x b non posso fare una transazione da ethereum ad avalanche perché mi arriverebbe sempre su ethereum ok se io mando da ethereum mi arriva su ethereum a meno che non coinvolgo un bridge se coinvolgo un bridge posso fare il salto di chain e quindi andare da 0x a a 0x a su tra ethereum e avalanche quindi fare un trasferimento tra me e me e spesso anche un trasferimento tra 0x a 0x b quindi da me a un altro sempre saltando da una chain all'altra lo stesso vale per il mondo non evm ci sono un sacco di bridge che fanno comunicare il mondo evm col mondo non evm quindi permettono appunto di transare da una chain all'altra se non c'è il bridge non si può fare ok quindi toglietevi dalla testa che si può mandare coin da ethereum ad avalanche direttamente con una transazione senza passare da un bridge andiamo a esaminare meglio come funziona un bridge cioè che cosa fa esattamente che magia fa per far saltare da una chain all'altra nessuna magia è veramente banale il funzionamento del bridge se noi prendiamo la prima colonna quindi passando da 0x a a 0x a tramite un bridge io ho fatto un esempio in realtà che non c'entra niente giusto per essere sempre coerente ho fatto l'esempio con solana ma in realtà il senso non cambia cioè supponiamo di voler per per esplodere ecco la dinamica del bridge supponiamo di voler transare degli usdc che sono erc 20 quindi da ethereum sulle chain solana io li voglio spostare dal mio metamask su ethereum a solana devo intervenire un bridge e che cosa fa questo bridge questo bridge è come fosse un pool di liquidità contenente i due collaterali contiene sia gli usdc erc 20 che gli usdc di solana perché perché io per spostare usdc da ethereum a solana non è che faccio una magia che gli faccio bucare il muro tra le chain e si teletrasportano su solana no io vado a depositare cioè questo bridge avrà due address su due chain diverse una su ethereum e una su solana contenente degli usdc e lui ragionerà dicendo bene tu mi mandi 100 usdc su ethereum mi arrivano nel mio wallet me ne accorgo ti sblocco 100 usdc su solana sul wallet che mi hai detto tu attenzione perché questo va a implicare molto spesso una componente di centralizzazione nonché un punto debole del sistema questi bridge di fatto sono potenzialmente vulnerabili perché se dovessero essere bucati purtroppo non funzionerebbero più se vengono prosciugati dei collaterali non funzionano più cioè il funzionamento è dato dall'avere i due collaterali ok spero che sia chiaro quindi abbiamo questo comparto contenente coin a sulla chain a e coin a sulla chain b io vado a inserire una delle due viene sbloccata l'altra in pari misura ora che abbiamo capito più o meno spero come funziona un bridge anche gli altri bridge sono esattamente identici ognuno magari al suo metodo di gestione del collaterale qualcuno magari cerca di decentralizzare il tutto mettendo una governance una dao a capo del bridge insomma però sta di fatto che c'è questo punto debole andiamo avanti e vediamo ora i wallet perché per utilizzare il cross chain serve bridge e wallet bisogna capire queste due componenti non preoccupatevi che poi i bridge li riprendiamo e facciamo gli esempi uno a uno di tutti i bridge esistenti wallet allora io mi sento di consigliare soprattutto a chi fa un uso molto ampio delle chain quindi chi interagisce con varie chain mi sento di consigliare di utilizzare un hardware wallet il ledger fortunatamente è semplice da usare ed è compatibile con tutti i principali wallet software in particolare i wallet estensione di browser che sono ciò che ci piace usare e ci serve usare poi per usare la defy per interagire con le dap defy perché vi ricordo conviene farlo dal pc che è più sicuro che da mobile e quindi noi attacchiamo il nostro leggerino al pc e da lì poi firmiamo le transazioni la ragione per cui io mi sento di consigliare di utilizzare un wallet è multipla in realtà non c'è una sola ragione la prima è che io creo il wallet dal legger in questo modo a un unico seed perché io quando vado a generare un wallet nuovo sul legger mi segno il mio seed e lo conservo per bene non lo faccio vedere a nessuno e non lo scrivo mai da nessuna parte online mi raccomando il seed è sacro e con questo seed poi riesco quindi a gestire una moltitudine di chain no perché sono tutte comunque con lo stesso standard alla base lato generazione di chiavi pubbliche private quindi se io vado a creare il mio seed su legger o il mio wallet su legger poi quando utilizzerò ethereum al mondo evm avrò il mio metamask e potrò importare il mio account del legger su metamask e firmerò le transazioni offline perché non basterà cliccare conferma sì è vero è più scomodo perché ogni volta c'è da firmare sul legger eccetera magari a volte si impalla va staccato e riattaccato ma la sicurezza vale questo e vale di più perché da metamask altrimenti basta cliccare conferma e la transazione parte tutto molto bello e molto comodo ma meno sicuro quindi io col mio legger tac firmo le transazioni offline la chiave privata non è mai esposta il seed non è mai stato esposto online cosa che invece avviene quando genero un wallet su metamask e quindi la sicurezza si massimizza lo stesso vale per gli altri principali wallet del mondo cross chain quindi per solana abbiamo phantom che anch'esso permette di importare da legger con terra abbiamo terra station con erond abbiamo mayar e con cosmos abbiamo kepler tutti questi wallet sono estensioni del browser il loro funzionamento è esattamente analogo a quello di metamask vi faccio anche vedere brevemente come funzionano così che possiamo darci un'occhiata allora metamask noi ce l'abbiamo qua noi possiamo andare a prendere tac il nostro account e da qui cliccando qua in alto a destra sugli account possiamo fare connetti portafoglio hardware e da qua colleghiamo il nostro ledger allo stesso modo lo possiamo fare ad esempio da phantom vedete lo dobbiamo sbloccare come sempre un wallet di base va creato anche vuoto e poi da qua vedete tac aggiungi collega wallet connect hardware wallet e attacchiamo il nostro ledger esattamente allo stesso modo deve essere sbloccato avere l'applicazione solana in questo caso installata e quant'altro però poi il procedimento è veramente semplice perché poi viene rileva rilevato sì e basta e ci carica il bilancio che abbiamo poi una volta che facciamo le transazioni le dobbiamo firmare da lì allo stesso modo per terra station abbiamo qua il nostro wallet tac possiamo andare dalle impostazioni vedete a fare disconnetterci e fare accedi con ledger e in questo modo tac entriamo col nostro ledger infine kepler stessa cosa noi lo sblocchiamo con la nostra password avendo creato un wallet fittizio magari vuoto e poi da dal nostro profilo tac aggiungi account e facciamo un bel importa ledger ok quindi non ci sono particolari problemi di compatibilità tra ledger e tutti quelli che sono i principali wallet browser che sono quelli che vogliamo utilizzare in questo modo ripeto massimizziamo la sicurezza firmiamo offline le transazioni e soprattutto non dobbiamo avere il seed di metamask il seed di phantom il seed di terra station diventiamo folli altrimenti abbiamo il nostro seed se anche avevamo generato un wallet su metamask quello fittizio no c'è da generare un wallet vuoto per poi importare ledger ci dimentichiamo il seed chi se ne frega ne generiamo uno nuovo e poi reimportiamo il ledger tanto quello che importa è sul ledger ok questa secondo me questo è il flusso di lavoro con wallet più utile e più ottimizzato bene ora prendete un bel respiro perché entriamo nel mondo dei bridge spero che siate pronti partiamo però dalla versione più semplice i checks i checks ovvero exchange centralizzati quando vedete un rischio è perché voglio mettere voglio aggiungere il termine al glossario che magari qualcuno non lo potrebbe non capirlo se è nuovo soprattutto exchange centralizzati binance ftx crypto.com eccetera 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 perché checks sono bridge ma perché comunque loro ti permettono molto spesso di depositare e prelevare su varie chain e quindi veramente massima semplicità d'uso perché io voglio depositare da arbitrum e prelevare su e prelevare bitcoin sulla blockchain bitcoin uso crypto.com che mi permette di depositare alcune coin su arbitrum me le mette nel mio bilancio nella mia bella app bella da vedere semplice da usare di crypto.com prelevo poi cioè cambio in bitcoin li prelevo sul mio address bitcoin e godo tantissimo perché veramente è minimo 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 sforzo se voglio depositare euro con un bonifico e voglio arrivare ad avere usdc su solana utilizzo ftx ftx ai suoi bonifici sepa gratuiti tra l'altro mando un bel bonifico sepa mi arriva cambio in usdc ftx mi permette di prelevare nativamente su solana e godo tantissimo se voglio fare che ne so io da euro ad arrivare ad avere luna su terra station ok euro ftx cambio in bitcoin prelevo bitcoin da ftx che i prelievi sono gratuiti di bitcoin li mando a binance su binance cambio in luna prelevo luna sul mio terra station e le fee tutto sommato sono veramente basse perché pago solo le fee per gli scambi e per il prelievo di luna che comunque sono veramente ripeto basse quindi combinando i principali checks si può raggiungere secondo me la quasi totalità delle chain e delle combinazioni perché i checks mettono insieme la possibilità di scambiare una coin con un'altra perché è il loro lavoro e anche di depositare sulla chain a e prelevare sulla chain b loro di fatto sono dei bridge come dei bridge normali non è che cambia molto perché di fatto loro hanno dei wallet su varie chain loro sono la controparte che va a verificare il rapporto uno a uno con lo scambio e te lo fa esattamente come fosse un bridge ok quindi io mi trovo molto bene in particolare per evitare anche di utilizzare exchange esotici che è una cosa da evitare in generale binance ftx e crypto.com sono le mie scelte numero uno proprio perché ftx c'è il mondo solana è perfetto per interagire con solana binance ormai è possibile andare su quasi tutte le chain veramente c'è c'è avalanche c'è phantom c'è tutto e se vi serve che ne so usdc su phantom per dire e binance non permette di prelevare usdc su phantom noi cosa facciamo depositiamo su binance bitcoin e quello che è insomma euro su ftx cambio in bitcoin deposito su binance cambio in ftm li prelevo su phantom e poi utilizzo un dex di phantom per cambiare gli ftm utilizzo spooky swap ad esempio cambio gli ftm con usdc ok non non è un problema una volta che si riesce a portare anche il token nativo su quella specifica chain non è più un problema perché poi ci sono sempre i dex e quindi direttamente sulla chain riesco a fare il cambio se porto i sol su solana poi vado su serum o sui vari dex e vado a cambiare i sol con usdc usdt rei tutti quei token che voglio e lo stesso vale per le altre chain quindi secondo me questa è una soluzione che chi vuole la minima complessità si può portare a casa con tutti i vantaggi del del caso quali sono gli svantaggi che c'è il kyc da fare ok quindi se uno non vuole fare del kyc non è il caso suo perché gli exchange richiedono il kyc e poi c'è da chiedersi se la chain o la coin è supportata ma ripeto andando a incrociare insieme diversi exchange spesso il problema non si pone neanche perché dove non c'è in un exchange c'è nell'altro procediamo ora con i bridge tradizionali quindi non basati su un checks questi bridge funzionano come vi dicevo all'inizio grazie a dei pool di liquidità che hanno su varie chain contemporaneamente il ognuno di questi bridge come vedremo ce ne sono tanti ognuno dei quali magari è concentrato su uno specifico ecosistema o su una chain come ad esempio questo che vi mostrerò tra poco è particolarmente utile per il mondo evm si trova quasi qualsiasi token e quasi qualsiasi chain evm ce ne sono altri magari più specifici per solana per terra e insomma in base poi alle operazioni che si vuole fare bisognerà scegliere quale o quali andare a utilizzare o combinare partiamo proprio dal bridge più utilizzato secondo me in ambito evm che si chiama multichain fino a ieri si chiamava any swap quindi probabilmente ve lo ricordate con questo nome è molto utilizzato per l'enorme quantità di coin e chain supportate ripeto soprattutto in ambito evm fuori dalle vm ad esempio solana non è supportata terra è supportata in maniera estremamente limitata quindi non è molto comodo ecco ve lo anticipo già e non è molto comodo neanche ad esempio per brigiare bitcoin perché con bitcoin ma come con altri token vedremo tra poco quando lo andiamo a vedere la sua interfaccia altri token a volte vengono brigiati nella nella loro versione con any davanti quindi ad esempio è possibile si brigiare bitcoin su ethereum ma ci viene dato quello che si chiama any btc e purtroppo molto spesso hanno molta poca liquidità e sono difficili poi da scambiare per vbtc o per versioni più liquide di bitcoin quindi sinceramente io tenderei a limitare il suo utilizzo soprattutto per i token rc20 nel mondo evm attenzione alle fi perché tendenzialmente sono molto basse ma in tutto il panorama dei bridge le fi sono molto basse ma a volte cambiano in base alla chain e in base al token tendenzialmente su multi chain le fi sono composte da la fi cross chain imposta dal bridge che non supera lo 0 e 1 per cento quindi ripeto è molto bassa poi ci sono le gas fi da spendere per andare a fare le transazioni perché vi ricordo noi mandiamo coin o token al bridge il bridge poi manda noi l'altra versione quindi quelle fi sono a carico nostro più la commissione del bridging tra l'altro anche su ethereum comunque le fi non sono molto alte perché la transazione che noi andiamo a fare è una transazione abbastanza semplice quindi vi dico secondo me con una decina di dollari massimo ce la si cava di gas fi che per ethereum son poche vi sottolineo questo come vedete allora dal diagramma che vi ho mostrato qua sulla sinistra abbiamo in ingresso il token a sulla chain a all'interno di any swap multi chain adesso multi chain e lui ci eroga il token a sulla chain b molto semplicemente non fa scambio ok quindi brigia e basta il token a ho messo davanti una w tra parentesi perché a volte il token wrappato questo è importante da capire il discorso del wrapping cosa vuol dire wrapping allora non so se avete mai visto che ad esempio ethereum c'è la versione eth normale w e th in sostanza la differenza è che il token wrappato è un token rc 20 mentre ethereum nativo una coin la differenza è che i token rc 20 sono gestiti da smart contract e quindi possono fare più cose vi faccio un piccolo esempio per capire meglio no quando voi inviate degli eth da un wallet a un altro voi li state inviando direttamente quindi siete voi che spostate gli eth dal vostro wallet all'altro pagate la gas fee e all'altro arrivano direttamente i vostri eth quando spostate un rc 20 un token è diverso perché voi non state mandando direttamente il token al wallet b voi state parlando con lo smart contract del token dicendogli ascolta prendi il token dal mio wallet e mandalo al wallet b ma è lo smart contract che lo fa noi paghiamo la gas fee allo smart contract la transazione nostra è eth da noi allo smart contract oltre chiaramente a quella gas fee noi mandiamo allo smart contract dei dati che gli dicono fai il pool prendi i token dal nostro wallet e mandali all'altro questo è il motivo per cui spesso si dice attenzione ad approvare gli smart contract ad esempio dei pool di liquidità delle defai eccetera perché una volta che lo approvi può spendere i tuoi token perché è lui che ha sempre il controllo e la versione frappata di ethereum in sostanza è un ethereum rc 20 controllato da uno smart contract e quindi maggiormente integrabile in altri smart contract questo è un po il discorso spesso i bridge danno versioni frappate di token quindi fate attenzione anche a quello perché a volte non sono la stessa cosa cioè non è eth e v e th sono due cose differenti andiamo a darci un'occhiata a questo multi chain si presenta in questo modo noi entriamo nell'app che in realtà è stato un po semplificato rispetto a any swap e questo mi fa piacere allora noi dobbiamo collegare il nostro wallet che può essere metamask ma non solo perché decidiamo da qua vedete adesso io sono collegato ad arbitrum ma da qua possiamo scegliere un network che sia evm o non evm c'è anche btc e terra come vi dicevo e in base al network che scegliete vi fa collegare chiaramente a una a una chain piuttosto che un'altra adesso mettiamo ethereum tac così ci collega a ethereum se noi andassimo a selezionare terra vedete che ci fa collegare adesso lo l'ho già collegato ma ho collegato terra station non più metamask qua si collega il network di partenza ok ricordatevelo bene tac a posto se io voglio brigiare qualcosa da ethereum verso un'altra destinazione io qui devo selezionare eth e collegare metamask se voglio brigiare da terra seleziono terra collego terra station e così via qua sotto invece vado a scegliere beh oltre al network chiaramente devo scegliere che cosa voglio brigiare vedete che qua una marea di token ve l'ho detto la l'utilizzo principale sono i token rc20 qua supponiamo di voler brigiare gli eth stessi vedete c'è eth e v e th come due cose diverse tac e qui sotto scegliamo la chain di destinazione tra queste lui mi filtra automaticamente quelle verso cui posso brigiare bsc eco quindi la wabi eco chain moon river e guardate tra l'altro una cosa ad esempio su moon river mi arrivano eth se io guardo su bsc mi arrivano any eth e qui attenzione perché c'è il discorso della liquidità molto scarsa any eth non è un token molto facilmente fruibile quindi vi ritrovate sì gli any eth sulla bsc e poi non sapete cosa farvene perché poi di fatto dovreste cambiarli in eth o in qualcos'altro ma non ci sono non c'è la liquidità per farlo e quindi siamo al punto di partenza fateci caso ok se invece si parla di token tendenzialmente questo problema non si pone perché che ne so usdc ad esempio vedete che lo brigio con altri usdc che sia sulla bsc che sia su matic che sia su phantom tac vedete qua i token rc20 li trovate ripeto praticamente tutti cross chain fee spesso è nulla a volte è dello 0 1 per cento al massimo poi ci sono dei minimi e massimi di da transare e c'è un tempo stimato di arrivo che dipende da procedura di sicurezza del bridge che lo fa per evitare insomma di correre rischi diciamo e questo è il suo funzionamento si basa su dei pool che potete vedere qua tutti i vari asset su quali chain si trovano non tutti in realtà i principali su quali chain si trovano e così via ma in realtà adesso non voglio farvi tutta la panoramica su multi chain volevo solo farvi vedere come si utilizza collegamento al network di partenza scelgo l'asset decido dove mandarlo e swap fine ok vi faccio vedere giusto così per darvi un'idea anche della gas fee che si spende tac 1 1 perché non c'è cross chain fee attenzione n e th questo è solo per prova per vederla gas fee vi faccio vedere che pagherei 5 dollari di gas fee quindi come vedete non si tratta di una una transazione particolarmente onerosa benissimo torniamo indietro e andiamo avanti con il secondo bridge che è ren ren è forse uno dei miei bridge preferiti perché l'ho usato molte volte mi sono sempre trovato bene è comodissimo e immediato token a chain a ottengo in cambio il ren token a sulla chain b questo di solito viene utilizzato per mandare i bitcoin esempio voglio farmare su curve su polygon su ethereum o da qualche altra parte o magari voglio farmare su solana con i pool di bitcoin che ci sono su saber sun eccetera e utilizzo ren perché comunque c'è tantissima liquidità sui pool ren btc è quello che si ottiene su curve c'è sempre il pool ren btc su solana c'è il pool ren btc e comunque se io voglio swappare da ren btc a vbtc io tramite curve poi lo swappo quindi passo dal mondo bitcoin al mondo polygon ethereum solana eccetera da bitcoin a ren btc e poi da ren btc sul dex locale ripasso a vbtc o a btc stesso quindi capite bene che qua è veramente semplice quindi non dobbiamo preoccuparci del problema liquidità anche se non riceviamo btc ma ren btc si chiama ren bridge ed è semplice da usare limitato a pochi asset quindi fa poche cose ma le fa bene raggiunge chain difficili tipo solana per l'appunto ed eroga ren asset eventualmente da swappare andiamolo a vedere ren bridge allora l'interfaccia guardate più semplice di così si muore voglio mandare che cosa verso dove boh fine questo è quello che devo fare voglio mandare bitcoin su solana benissimo collego il wallet destinatario attenzione perché in questo caso lui mi darà poi un address bitcoin suo dove io mando i token mando i btc e io li ricevo su solana quindi io devo collegare il mio wallet solana su cui voglio ricevere i ren btc vi faccio un esempio con ethereum visto che abbiamo il nostro metamask qua colleghiamo il wallet metamask wallet tac preso vedete io riceverò i ren btc scusate qui vado avanti e qui c'è il fi calculator quindi lui mi dice io sto mandando btc verso ethereum a questo indirizzo 0x ab il mio controllate bene fi cosa pago allora ren ha una fi fissa di bridging dello 0,36% quella si applica su qualsiasi bridging poi abbiamo la bitcoin miner fi perché vedete che loro vanno insomma ren muove comunque i bitcoin quindi deve pagare il costo di transazione non lo fa di tasca sua e poi abbiamo la gas fi di ethereum ok purtroppo che è quella che grava un po di più supponiamo quindi di voler un mandare un bitcoin e voler un ren btc e questo è quello che andremo a ricevere escluse le fi di eth che quelle ovviamente le dobbiamo pagare ok andiamo avanti e vedete che adesso mi lascerà tra poco il gateway address che è un address al quale mandare i btc attenzione rimane aperto per 35 ore quindi dopo queste 35 ore scade non mandateci più niente ma durante queste 35 ore potete mandare anche più volte i btc e vengono brigiati dopo aver mandato i btc bisogna aspettare circa un'ora 6 conferme per motivi di sicurezza quindi io vado avanti mi dà il mio gateway address che è ancora aperto per 35 ore io mando btc qua dentro posso mandarli anche non lo so mezzo adesso mezzo tra due ore 0 e 1 tra quattro ore l'importante è entro 35 ore pagherò poi queste fi e una volta che lo mando lui lo vede vede che arriva la transazione e mi compare un progresso fino a 6 blocchi 1 2 3 4 5 6 passato il sesto blocco la sesta conferma dopo circa un'ora lui mi dice sono pronti i tuoi vbtc bene ren btc scusate mi confondo bene mi ricollego di nuovo qua col mio metamask faccio claim i ren btc pago la gas fee e mi arrivano i miei ren btc su questo address che sia ethereum che sia solana che sia un'altra chain funziona esattamente in questo modo sia per btc che per luna ad esempio o per gli altri asset che sono abbastanza inutili a mio parere ma vabbè se uno vuole brigiare bch dogemo non so per quale motivo io l'ho utilizzato per btc e per luna perché su solana c'era il pun ren luna luna che era ottimo btc ci sono su curve e quant'altro quindi questo è un po' il motivo se voi mandate i vostri btc e vi compare il progress bar quindi delle 6 conferme e nel frattempo chiudete dite boh vado da un'altra parte dite oh no adesso cosa faccio ho perso tutto ovviamente no se ritornate e andate a ricollegare il vostro address di destinatario poi vi ricarica chiaramente la progress bar allo stesso punto potete anche vedere qua lo storico tac vedete che vi poi vi rimane la cioè se avete una transazione in coda la vedete ecco non è perso nulla poi fate il vostro claim e vi arrivano i ren btc questo è ren e ripeto i ren btc sono liquidi quindi non c'è problema di rischio liquidità procediamo col prossimo bridge wormhole wormhole è un bridge che io chiamo solana centrico perché di fatto è un bridge che è stato creato inizialmente per solana e ha integrato poi anche altre chain ma ripeto l'utilizzo principale è per brigiare da e verso solana come funziona? funziona che io vado a dare il token A sulla chain A all'interno di wormhole e ricevo il VH token A sulla chain B VH token è una versione tipo abbiamo visto per ren c'è il ren btc any swap multi chain a volte c'era l'eni e th any btc any quello che è il problema qua è la liquidità quindi any non mi piace perché è poco liquido ren mi piace è molto liquido wormhole questo ecco dipende chiaramente dallo scopo perché ripeto su solana ci sono tutte le possibilità del mondo di utilizzare i token di wormhole anche sulle altre chain in realtà si è integrato molto bene quindi anche qua il problema della liquidità tendenzialmente non si pone e inoltre su ftx un checks ho la possibilità di depositare prelevare direttamente i VH asset questa è una figata VH asset solana ok e questo bridge non fa pagare fee oltre alle gas fee che sono minime andiamolo a vedere perché è interessante allora wormholebridge.com transfer allora qua vedete che le chain supportate sono bsc, eth, polygon, solana, terra e tra poco anche avalanche e oasis che insomma non conosco sinceramente transfer tokens tac interfaccia semplicissima trasferisco da A facciamo da ethereum a solana tac collegare wallet mi prende il mio metamask di nuovo si collega il wallet di origine seleziona un token eth, usdc allora qua c'è l'elenco di tutti i token che posso spostare eth nativo usdc e rc20 tutti i token rc20 questo è l'address dello smart contract del token in questione su ethereum e guardate che io e mi fa vedere per ognuno di essi tra l'altro tutti i DEX destinatari quindi di solana che poi lo trattano se io vado a prendere il mio eth e lo voglio portare su solana supponiamo di voler ce ne portare uno andiamo avanti bene solana qua devo selezionare il mio wallet phantom ok devo collegare anche phantom tac password sblocchiamo e colleghiamolo ok benissimo quindi io vado a trasferire un eth dal mio address su ethereum verso il mio wallet solana vado a trasferire attenzione questo token bridged tokens andiamo a vedere qual è guardate è il wrapped ether wormhole quindi il vh eth quello che dicevamo prima il wrapped ether su wormhole tuttavia non è figlio di nessuno per fortuna perché se noi andiamo su saber ad esempio che è insomma ci sono i pool e si può anche swappare vedete che abbiamo se andiamo a cercare th il primo che compare è proprio il wrapped ether wormhole quindi siamo in buone mani perché lo possiamo andare a swappare per qualsiasi cosa su solana c'è enorme liquidità vedete dei token di vari bridge di all bridge i token di wormhole token nativi solana chiaramente eccetera 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 c'è veramente una marea di roba poi tra l'altro potete qua fare gli swap che ne so per sol ad esempio e poi da sol potete swappare per tutto un altro mondo di token che prima magari non vedevate ok e come vi dicevo poi su solana ci sono anche i token di ren abbiamo ren btc e ren luna quindi facendo un po' di salti poi si può tranquillamente swappare tra tutto ecco c'è molta liquidità solana a questo vantaggio quindi noi riceviamo il wormhole th ma non abbiamo problemi di liquidità possiamo anche fare spostamenti che ne so da terra a solana per esempio c'è il mio terra station che me l'ha visto me lo collega però vedete ci sono chiaramente meno possibilità perché i token poi supportati dipendono dalla chain ethereum e solana inutile dirlo sono quelli con il maggior supporto vedete che da solana ah no qui ho messo solana terra se faccio solana e th di nuovo c'è tutto l'elenco di token che posso spostare vedete ve sono quelli di wormhole però molto spesso ci sono su curve anche su ethereum quindi non ci sono particolari problemi se una cosa è su curve sono tranquillo che la liquidità ce l'abbiamo quindi wormhole liquidità ok cross chain soprattutto solana centrico ve l'ho detto però può essere anche utile per spostare ad esempio da ethereum a polygon mi ricordo che l'avevo utilizzato e mi ero trovato molto bene si può spostare th usdc e usdt però sono quelli che di fatto poi sono maggiormente utili 0 fi massima comodità quindi ve lo consiglio come bridge da utilizzare il procedimento è il medesimo cioè noi andiamo a spostare selezioniamo la quantità andiamo avanti qui mi fa collegare adesso anche a matic a polygon per la la destinazione benissimo qui mi fa vedere le fi vado avanti mi fa fare la mia transazione a partire da ethereum tac da eth a veth attenzione perché su polygon chiaramente la coin nativa non è più eth ma è matic siamo su una chain che è dove ethereum è ospite e quindi andiamo avanti attenzione perché sono quelli di wormhole di nuovo e devono essere scambiati per gli asset nativi però abbiamo visto che la come si chiama su quick swap lo troviamo lo abbiamo visto qua se non ve lo ricordavate no qua su quick swap tac se noi lo clicchiamo ci dovrebbe già rimandare forse al pair corretto forse no però se noi andiamo a fare eth poi lo troviamo insomma e tra l'altro qua sotto tac avanti 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 di nuovo vedete posso cliccare qua che mi rimanda alla documentazione di wormhole e mi fa vedere per ogni chain molto comodo questo dove trovo la liquidità per i token wormhole in questione è abbastanza importante vedete che se la target chain ad esempio è polygon eccola tac eth matic vedete eth token target veth wormhole markets abbiamo il pair su quick swap con questo contract address se lo volete andare a incollare quindi questo vi assicura che la liquidità la trovate ma questo elenco se ci fate caso è lo stesso elenco che avete visto importato qui dentro niente scusate se mi son dilungato ma ci tenevo a sottolineare queste cose che poi sono gli aspetti pratici che a volte risultano anche un attimino più ostici da capire quindi token A chain A verso vh token A su chain B e queste sono le limitazioni giusto ftx se voi volete se utilizzate ftx come exchange vedete che su wallet a volte non lo so supponiamo con eth sempre di volerlo prelevare withdraw vedete posso scegliere di prelevarlo solana e guardate c'è il flag withdraw wormhole coin quindi se io flaggo qua e incollo un address solana attenzione ho scelto solana riceverò non l'eth nativo su solana ma il wormhole wrapped eth quello che abbiamo visto prima allo stesso modo se io faccio deposit su solana spl quindi deposito su questo address vedete dice you can also deposit the wormhole version of this coin quindi posso depositare anche il wormhole solana e il wormhole eth e lui mi vedrà comunque eth su ftx molto comode queste integrazioni ma ftx sapete che strizza l'occhio a solana quindi è completamente integrato procediamo con il bridge nativo terra terra bridge non a caso è terra centrico e lui permette di andare a spostare il token a dalla chain a verso il token a sulla chain b il token a deve essere un token del mondo terra quindi non è che possiamo spostare sol ma possiamo spostare luna ust i mirror asset insomma tutti quelli lì che sapete che a volte capita che c'era mi ricordo c'erano i pool su pancake swap degli m asset e insomma anche ust stesso è multi chain ormai quindi ci sta volerlo spostare è limitato è un bridge molto limitato il cui scopo ve lo mostro immediatamente terra bridge eccoci il cui scopo è proprio spostare in giro dove è più utile ha fatto un po' un filtro di dove è più utile i token del mondo terra vedete abbiamo luna anchor bet i vari m asset e così via e possiamo spostarli da e verso terra eth vsc harmony quindi da terra supponiamo colleghiamo terra station bam da terra ethereum vedete che posso spostare tutti i miei m asset e via è abbastanza semplice anche qui perché supponiamo sempre di spostare è il problema che adesso non ne ho di asset del genere con cui fare la prova purtroppo però se io volessi supponiamo vabbè facciamo una prova così fino a se stessa da terra a ethereum voglio spostare ust supponiamo 10 qui io chiaramente mi dice bilancio insufficiente perché il mio wallet di prova non ha niente address di destinazione attenzione stiamo spostando su ethereum quindi mi serve il 0x ab eccetera il mio address e il mio address th di destinazione vado avanti pago la fee e lo swap avviene ok questo è tutto e lo stesso vale a ritroso quindi io collego il wallet di origine qua in alto e poi qua la destinazione incollo l'address di destinazione quindi in realtà posso spostare qui da address a ad address b ed è tutto questo è quanto è un pelino limitato al mondo terra ma può essere estremamente utile per spostare gli m asset che sono quasi solo qui infine questo l'ho menzionato in più perché è semplice da usare si tratta del seller bridge il seller bridge ve lo faccio vedere dopo permette di spostare sempre token A da chain A a chain B e è soprattutto consigliabile secondo me perché è veramente comodo e integra anche optimism è uno dei pochi per i layer 2 di Ethereum quindi vabbè andiamolo a vedere perché poi le cose sono sempre le stesse da dire ormai i bridge vi usciranno dalle orecchie guardate interfaccia clamorosamente semplice da verso che cosa voglio spostare quindi in questo caso io sono collegato a Ethereum voglio spostare ETH verso dove Arbitrum BSC Phantom Avalanche Polygon Optimism Boba Network che non conosco ma mondo e WM qua vedete particolare attenzione i layer 2 abbiamo Optimism abbiamo Arbitrum molto molto bella come cosa perché poi le fee sono molto contenute e lo come si chiama la user experience e la user interface sono di una semplicità disarmante quindi non lo so voglio inviare verso Polygon supponiamo un ETH tac metto 1 lui mi fa la preview vedete 0,9994 quindi fee molto bassa poi c'è da pagare un po' di gas fee attenzione anche sulla sulla chain di destinazione questo sempre per motivi di sblocco e 5-20 minuti di tempo per discorsi di sicurezza qua trovate tutto trasferite autorizzate la transazione e il gioco è fatto ve l'ho detto super semplice 20 dollari di gas fee perché vedete c'è un contract con cui si interagisce quindi è un po' più costoso ad esempio di AnySwap di Multichain scusate e questo è quanto in realtà è tutto qui occhio alle fee perché ad esempio su Arbitrum ecco questo me l'ero segnato su Arbitrum sono un pelino più alte 0,998 parliamo di un 1,5% qua e se non ricordo male le fee tra l'altro c'è una componente fissa se io metto 100 ho 96 no forse era il contrario se io metto 10 6 si vedete c'è una componente fissa ma forse costava di più aspettate da Arbitrum a Ethereum ci sono alcuni movimenti che costano di più voi nel dubbio controllate sempre vediamo 100 e ricevo 69 ecco visto qua c'è una flat fee importante 1968 fate sempre attenzione alle fee perché a volte soprattutto da L2 a L1 ci sono delle fee un po' più importanti bene questo è quanto per ciò che riguarda il bridge ultimo ma non ultimo come recuperare le coin inviate male cosa vuol dire vuol dire che a volte a chi non è mai capitato insomma credo che ormai sia capitato un po' a tutti di aver fatto un errorino così si spera rimediabile però l'inviare una coin da Ethereum verso un wallet che magari è collegato a BSC o meglio di solito succede che prelevo da BSC e invio verso un Metamask che è collegato a Ethereum per risparmiare le gas fee ok quello è successo un po' a tutti forse e poi guardo e dico oh cazzo non mi arriva come mai non me lo vede e il motivo è proprio perché io ho inviato a BSC e il mio Metamask parla con Ethereum finché è così nessun problema perché le recupero ok il problema si pone se quel wallet non è mio cioè se io ho inviato ho prelevato da Binance a una con la BSC verso che ne so BlockFi che però lui mi cerca gli RC20 io gli ho mandato i BEP20 la BSC e a lui non arriva niente o meglio gli arriva ma non sulla chain giusta spesso i CECS e le Cefai quindi custodial si appoggiano a terzi per la custodia vuoi a BitGo e ad altri quindi anche loro non è che direttamente hanno tutte le chiavi private accedono c'è da aprire una procedura tale per cui loro si devono attivare ma sono loro cioè chi ha in mano fisicamente le chiavi private del wallet è lui che deve andare a fare la procedura di recupero tu non ci puoi fare nulla quindi devi sperare che ti ascoltino il discorso è se noi abbiamo sbagliato l'invio e abbiamo inviato da una chain a un'altra su un wallet nostro il problema non si pone perché noi andiamo sul nostro Metamask tiriamo giù il menu a tendina e andiamo a cambiare la chain noi abbiamo sbagliato abbiamo mandato su BSC bene andiamo a selezionare BSC e ci troviamo le coin che abbiamo mandato lì poco male le rimandiamo indietro e il problema è risolto se invece abbiamo mandato a un checks o a un custodial possono essere cavoli amari perché quel checks o custodial deve essere in grado di recuperarle quindi dobbiamo sentire il support noi non ci possiamo fare nient'altro ahimè quindi io vi ho fatto un piccolo diagramma tra l'altro qua che mostra che si può si sbagliare chain provando a fare una transazione da Ethereum ad Avalanche perché c'è sempre lo standard 0x quindi non è che il Binance si accorge che avete sbagliato non lo sa se il vostro Metamask è collegato a Ethereum o ad Avalanche voi inviate a 0x e lui manda se provate a mandare da Ethereum a Terra vi dice no guarda che stai sbagliando non è un address giusto ve lo dice lui e vi ferma quindi non si corre il rischio se possiedo chiave privata basta ripuntare il mio wallet alla chain giusta se ho inviato un checks custodial support e incrociare le dita ahimè spero che insomma bisogna far massima attenzione spero che se vi è capitato di o vi capita di fare un errore di questo tipo siate riusciate a ripararlo perché insomma è una scocciatura buttare via crypto così amici questo è tutto per oggi spero che vi sia stato utile anche questo approfondimento sui bridge con tanto di occhio pratico anche sui bridge stessi abbiamo visto step by step come si usano se avete dubbi o domande come sempre fateli e io vi aspetto giovedì prossimo sempre alle ore 19 con la puntata 4 dove ci addentriamo nelle prime piattaforme DeFi abbiamo visto i bridge abbiamo visto i wallet adesso usiamo sta benedetta DeFi vi aspetto sempre carichi sempre sul pezzo